Vedrete in quel video anche la performance che lui ha messo in alto per far sì che l'opera rientrasse al museo. Ha voluto proprio condividere con gli altri artisti questo momento rituale che andava al di là delle religioni e delle convenzioni culturali. È una cosa che ha inventato lui per mettere insieme tutti in un grande messaggio di pace che tra l'altro è lo stesso messaggio che ci vuole lasciare omogra la scimpetta. Anche questo testo è di sale di mito per quanto riguarda i capelli. È molto la scimpetta, è un artistico.